Un maxi incendio è scoppiato all'alba di giovedì mattina in un capannone industriale in disuso a Milano, in via Cesalpino, angolo Gerolamo-Fracastoro, in zona Palvanova. Lo stabile era utilizzato come dormitorio da circa una settantina di persone senza fissa dimora, tra cui anche famiglie con minori, una donna incinta e diverse persone anziane. Il rogo scatenatosi intorno alle 4.30 del mattino si è propagato in fretta, le fiamme sono divampate in pochissimi minuti. Alcuni vicini residenti nei palazzi accanto hanno raccontato di aver visto le fiamme superare l'altezza dell'edificio. Per fortuna tutte le persone al momento presente all'interno del capannone sono riuscite a scappare, i vigili del fuoco sono intervenuti con 10 squadre, sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine, la protezione civile, il 118. In via precauzionale anche gli edifici limitrofi sono stati evacuati, decine le persone in strada, che hanno dovuto aspettare diverse ore prima di tornare a casa. Ancora da chiarire che cosa possa aver provocato l'incendio, un testimone racconta di aver sentito una serie di botti come se fossero delle piccole esplosioni. Non si esclude quindi che le fiamme possano essere partite da alcune bombole di gas presenti all'interno dell'edificio. Domate le fiamme e i vigili del fuoco sono rimasti a lungo sul luogo per mettere in sicurezza e presidiare l'area, iniziando con tre squadre le attività di smassamento e permettendo alle circa 70 persone che erano nell'edificio di recuperare i propri oggetti personali, i pochi che non sono bruciati nell'incendio. Il problema ora è che queste famiglie non hanno più un tetto sotto cui dormire. Un attivista della rete Ci Siamo, che offriva spesso assistenza agli occupanti, ci ha raccontato che lo stabile era occupato da tre anni e che molte delle persone che ci abitavano provenivano dagli sfratti della palazzina di via Siusi in piazza Udine e da quella di via Esterle, una situazione difficile per molti. Nessuno vuole, come dire, la carità o vivere alle spalle di qualcun altro. Sono persone che vogliono avere la propria dignità e cercano anche una piccola stanza, un posto loro dove poter vivere come tutti abbiamo bisogno. Il problema è che se non hai un posto così non puoi neanche lavorare. Se stai tre giorni in strada su una panchina, al terzo giorno hai perso il lavoro, non puoi caricare il telefono, non ti puoi lavare le cose, non riesci più a perdere tutto. E qua si tratta di persone che hanno fatto una lunga strada per venire, per mettersi in regola i documenti, per trovare un lavoro, non possono tornare indietro e perdere tutto perché non si trova una stanza a Milano a 300 euro. E qui il posto aveva ospitato anche le persone che erano state sgomberate da queste due occupazioni perché nonostante un'interlocuzione di 4-5 mesi il Comune non è riuscito a trovare nulla.